Salve a tutti ragazzi, qui e c'è anche i... Aspetta, che vi parla? Sì, perfetto Che c'è anche i parla E oggi è il 24 dicembre Quindi comincio col dirvi Buon Natale a tutti Anche se non è proprio Natale, ma ci siamo quasi Buona Vigilia Ecco, così è meglio E oggi è arrivato Babbo Natale No, sto scherzando, oggi mi sono comprato Sono passato io dall'edicola Non è passato Babbo Natale E ho comprato Zan 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 Calciatori 2012-2013 Finalmente sono usciti E io vi ho portato ben 30 bustine Proprio così ragazzi 30 bustine Yeah Sì, voglio dire una cosa Innanzitutto questa è la bustina Spettacolare ragazzi, spettacolare Dietro è così Calciatori Così Così Sono 30 belle bustine E io voglio ringraziare infinitamente mio cugino Perché oggi questa apertura la faccio grazie a lui Perché vi spiego Ieri sono andato a casa sua appunto E mi fa dopo un po' Ti devo fare un regalo Prende e mi regala tre bustine Ragazzi, tre bustine Che ho già aperto E quindi ho saputo Carpi Como Cremonese Interreggio L'Aquila Martina Franca E Melfi Poi abbiamo la serie B Metti a fuoco Juve e sabbia Spezia Poi passiamo alla serie A Sono stati veramente dei bei pacchetti Allora Questo che è De Silvestri Parolo Terlizzi Darmian Marchinhos Del Grosso Avelar Garix E ora cominciamo con le carte un po' più forti Nocerino del Milan Insigne del Napoli Cassano dell'Inter Poi ho trovato subito una speciale Ecco Questa è una delle speciali Che in pratica Quest'anno le speciali sono Le sultanze delle squadre Cosa che c'era già nell'anno 2005-2006 E questo qua Il calcio che cambia Cioè Sono delle nuove regole Che hanno inserito nel calcio Se non sbaglio E poi Per finire Ezequiel Munoz Del Palermo E Gian Piero Gasperini Del Palermo Come potete sapere Io tifo Palermo Quindi Tre bustine Trovare già due del Palermo Mi sembra una cosa ottima E il bello che c'era là Mio cugino Messo a rosicare Perché anche lui Tifa Palermo Quindi Vedendo le carte del Palermo Appunto povero Però gli ho detto Che appena le trovavo Doppi ieri da E quindi Grazie a lui Faccio questa apertura oggi Queste belle Trenta bustine Ok Senza Fare dire niente Io comincio A Ad aprire Voglio trovare ovviamente Scudetti Calciatori buoni E Carte speciali E cose varie Mmm Bene No Che figata che hanno fatto Vabbè Mezza squadra dell'Inter E sotto Guardate Ci sono i titoli Che ha vinto Magni Grande Generata Della Panini Bella Bella Questa mi piace Io tifo Palermo Ve l'ho già detto Coda Seymour Migliaccio Giulione Frison E Modena Modena Sì Modena Uscite Carte del Palermo Uno scudetto Poi se trovo Miccoli tipo che Non so cosa Wow No Cioè Aspettate ragazzi Questi sono gli scudetti Guardate Qua c'è il basso rilievo Alto rilievo Non so cosa E Guardate che Intanto scudetti Sassuolo e Spezia E guardate Non so se si riesce a vedere Ma qua È ruvidissimo E c'è la scritta Calciatori Con La rovescia Wow No Fantastico Poi abbiamo Quagliarella Cosic 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 Brescia Mattia Destro Grande Destro E Calaio Nato a Palermo Amico mio Ah il dietro delle figurine È così Quest'anno Rappresenta l'Italia Così Ah e quest'anno Le bustine sono aumentate Ci sono degli scudettini Sono aumentate Di 10 centesimi Ma dentro Ci si trova Una figurina in più E voi direte Vabbè per una figurina Invece per una figurina Fa perché Il prezzo delle figurine Singole È diminuito Poi vi spiegherò Anche perché Allora Abbiamo 4 scudetti Arzango Aversar Normanna Borgo Bugiano E Campobasso No Bellissimo Fichissimo Ecco Questo È una delle carte Appunto Calciocambi R2 Non so cosa voglia dire Bisogna vedere l'album Ma È bello È fighissimo Poi abbiamo Bocchetti Vorrei trovare le esultanze Ed eccole le esultanze Eccole Questo dovrebbe Vediamo Sì X9 Ah c'è il codice Ah c'è il codice C'è il codice Non ve lo faccio vedere Queste sono le esultanze Bellissimo Dovrebbe essere la mela Questo Sì Wow Aspettate Ah c'è un codice a barre Per vedere i video Ah in pratica Guardate Faccio vedere per vedere i video Utilizza il QR code E vai sul sito Ah si è visto il codice E vabbè Si è visto il codice Bellissimo Wow Grande Poi Bella generata anche questa Della Panini Sono di materiale diverso Anche se si tocca Forte Abbiamo poi Perico E Tider Si è visto il codice Scudetto del Bologna Ragazzi Noo Ah in pratica quest'anno Intanto lucentezza Spettacolare Poi se riusciamo a vedere Ci sono i colori sociali Della squadra Che figata Bellissimi ragazzi Comunque Scudetto del Bologna Quagliarella Eh ma questa è una presa Per il di dietro C'è subito dopo Vabbè Cittadella Ascoli Devo girare ancora Provercelli Un'altra dai Ah non salta Treviso E Tritium Squadrella Lega Pro Dove siete i giocatori Del Palermo Vi cerco Io vi cerco Il Torino Torino Mezza squadra Il Torino Uffa Io e Sabia Maxi Lopez Clic Rolin E De Luca Andiamo Andiamo Quattro studetti Perfetto Allora Benevento Fortitudo Mea Mea Introta Vabbè qualcosa Catanzaro E Frosinone La squadra del Varese Serie B Empoli Ternana Eh ancora dai Sau Marco Sau E Morleo Morleo E qua c'è Cosmi Cersei Cosmi Appena esonerato Wow Appena esonerato Cosmi Del Siena Juve e Sabia Cioè sto comprendendo La Juve e Sabia Praticamente Cristic Ancora Brescia Perché mi fate girare così Nicola Spolli E Carmona Dove siete Giocatori del Palermo Vi cerco Quattro scudettini Il Gubbio Allora Gubbio Latina Nocerina E Paganese Domizzi Granqvist Tomovic Capuano E Pegolo Mmm bussine tutte Con calciatori di Serie A Ottimo Oh No No Non si vuole aprire questa bussina Incredibile E infatti c'è la mezza squadra del Chievo Verona Ecco perché non si vuole aprire No che c'entra Abbiamo qua Juve e Sabia Ah Aspettate un attimo Juve e Sabia Uh che bello Forse c'è un'altra Oh oh Daniele Castaldello Ah Che cosa bellissima Aspettate Un attimo Eh Aspettate Comunque ho trovato L'altra parte dell'esultanza Di La mela Quindi Wow Adesso devo trovarla Io ti troverò Eccoti qua Allora Tanto fatemi controllare una cosa Perché vorrei capire Ah vabbè il codice è sempre uguale Quindi Se ve l'ho fatto vedere non ci fa niente Allora guardate un po' Che fortuna Subito Ecco fatto Trovata e completata Io vorrei capire se c'è per tutte le squadre Ma non Non mi sembra Poi abbiamo Morrone E Constant Dominion Giocatori del Palermo Io vi cerco Allora Qui abbiamo Mezza squadra della Juve Virtus Lanciano Rossini Masiello Almiron E Livorno Non mi interessano quelli del Catania Voglio quelli del Palermo Gli uccido tutti Ah che bello Cioè no che bello Che c'è Media squadra del Milan Cioè ho trovato Media squadra del Milan Della Juve e dell'Inter Ledesma Uffa serie B Quanto mi stufi Vicenza Djokic Livorno E Novara No fatemi capire Che senso No Quattrocento No perché in pratica Ho Trovato Bu Non l'ho capito Cioè perché per il Varese La squadra era intera E per queste no Bu Vabbè Mode Vuol dire che gli stavo antipati A quella della Panini Scudettini Allora Chieti Foligno Fondi E Sgavorrano Cana Un cane E la Sverona Elvis Abruscato Meggiorini E Valiani Uffa Vi cerco Calciatori del Palermo Dove siete Fatevi vedere Non siate timidi Fate i buoni E qui c'è mezza squadra Dell'Udinese È giusto È giusto Un altro L'Udinese Alan Borriello Ascoli Un altro Il Catani Isco Addio Aiuto Ah Chi è questo Oh mio dio Schelotto Mamma mia Quanto sei Bello Mamma mia Ok Continuiamo a trovare I calciatori del Catani E non del Palermo Uh che carino Lo scudetto del Pescara Bello Bello Sì Eranzavi Che bello Ok Non mi interessa tanto Ma è del Palermo Quindi ok Oh l'ho chiamato Bocchetti Aronica Nuovo acquisto del Palermo Verrà a fare gli autogol Quale È nato anche a Palermo Padova E qua ci sono Il Pavia E il Porto Gruaro Va bene Continuiamo Siena Mezza squadra del Siena Santiago Garcia Sì Granda Che sei brutto Oddio Non ti avevo visto Avevo visto soltanto Il Scudetto del Palermo Mamma mia Sorriso smaiante Wow Aspettate Ok È bellissimo il tuo autogol Sì sì Bello Andanovic Andreoli Pisano E Abbate Bella bustina Bella bella Ma io voglio Miccoli Altri Scudettini Inutili Perugia Pisa Non lo so E Sorrento Ciccio Brienza Sì 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 Questa è buona Questa è più che buona Ciccio Brienza Grande C'ho anche la foto Con lui e l'autografo Sei un grande Però di molto tempo fa Perché lui era prima del Palermo Poi sei andato E poi è tornato È un grande Ciccio Zanetti Tra me Piniglia Entella e Ferralpisalò Bellissima bustina Anche questa Però voglio delle speciali Dai Abbiamo mezza squadra Del Pescara Invece Poi abbiamo Mauri Pozzi Barese Zaccardo E Iepes Quante bustine ci restano Abbiamo già finito Ma che cavolo Aspettate Voglio vedere un po' Quante bustine ci restano Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undeci Dove Tre Vabbè Quasi la metà ancora Non è che abbiamo proprio finito Io non di Ancora scudettini Ah Ok Abbiamo Lo scudetto Il Vigor La Mezza Dovrebbe essere Lo scudetto Della Lega Nazionale Direttanti Questo è anche Della serie D E questo è il calcio femminile Sì Uh che bello Un'altra carta speciale Di quelle Il calcio cambia Non so che significato hanno Modesto Lui è il modesto Vargas Conti E Pabon Voglio lo scudetto del Palermo Basta Decide Ah Ok ho completato la squadra dell'Inter Mezza squadra dell'Inter Parte destra Avevo la parte Appena trovato la parte sinistra Quindi beh Barreto Uh Grande Un altro del Palermo Anche lui è bravo Barreto Silvestre Frey Ekdal E Montolivo Cioè sto notando una cosa La disposizione delle carte È sempre uguale Perché all'inizio Andate per rivedere Quando trovo uno del Palermo Poi c'è sempre uno dell'Inter Uno del Chievo Verona Uno del Cagliari E uno del Milan Che strana cosa Ah Me ne sono accorto solo adesso Ah Altri scudettini Inutili Allora Mmm Propatria Renate Rimini E Sant'Arcangelo Budan Se adesso c'è uno dell'Inter Mi sparo Chievo Verona No Eh Cagliari E No ho sbagliato Cioè No ma Praticamente è uguale La disposizione delle carte Cioè Budan Inter Cioè Palermo Inter Chievo Verona Cagliari E anzi Qua non c'è Il Milan Ma c'è il Sul Tirol E il Trapani Che strana cosa Wow Oh E qua c'abbiamo degli scudettini Cioè Degli scudettoni Anzi Eh Scudetto dello Juve Stabia Del Virtus Lanciano Molto bello Ah Subito squadra La Ternana Sì Dimmi che sei tu Pesca Ah questo ce l'ho già doppio Terlisi Brescia Wow Totò di Natale Inesultanza Che bello Bello Ah ecco Qua il codice è diverso Bellissimo Wow È contro la Roma È contro la Roma Penso Bello di Natale È la X6 Ottimo Ottimo E poi abbiamo Il Siena Sesto Sono Sesto Ce l'ho già No Mezza squadra Michael Swell Michael Swell Paulsen Brighi Sansone Wow Cioè Due del Torino Lo stesso pacchetto E Livor Andiamo avanti Dai voglio un ultimo Che figata Wow Bellissimo Sì ne avevo sentito parlare di queste carte In pratica hanno messo in questa collezione Anche le figurine speciali Come appunto questa Del trofeo della Supercoppa Team Serie A e Serie B E ci sono anche i loghi Bellissimo ragazzi Ed è la numero 4 4 Bello Wow Che figata Poi abbiamo il Modena Cittadella Ternana Tacchisidis E Girardino Wow Bellissimo Quest'anno è una bellissima Bellissima collezione Serie Non so come dirlo E abbiamo anche Guidolin Francesco Guidolin Che ha vinto una Coppa Italia Faraoni Ho visto uno scuetto del Palermo Perché Vargas Perché Vargas Jonatas Questo che si è fatto l'autogol Alvarez E Modena Francesco stanco E mi dispiace E stanco Ci restano le ultime 5 bustine Speriamo di trovare Speriamo di trovare almeno un altro giocatore del Palermo Dai I piccoli Che ti costa Intanto ci abbiamo Allegri Se non sbagli E appunto Ci abbiamo anche mezza squadra del Napoli Massimiliano Allegri Uno scudetto E una coppetta Wow È il Matador Bello È il Matador In esultanza Esulta Bello Spero che c'è anche quello Uno del Palermo Ah Questo Ah no Giusto Giusto Bello Fantastico È il Matador Poi ci abbiamo a Zanon Zuniga Sempre del Napoli Bradley Serio Serio E Novara Bene Bene Dai Uno del Palermo C'è uno scudetto Due scudetti Scusate Della serie B Abbiamo Provercelli E Regina Poi abbiamo Bend Tener Bend Non so come si pronuncia Bend Tener Dovrebbe essere Balzano Amsik Marek Amsik Piris E Garix Pirix Garix Ultime Tre Tre E Mezza squadra Perfetto Della Fiorentina Poi abbiamo Virtus Lanciano Andrea Costa Jovetich Paletta Il mostro Schelotto Oddio Ultime due ragazzi Dai Uno del Palermo Uno del Palermo Uno del Palermo Intanto troviamo Altri scudetti Ellas Berona Vicenza Domizzi Cucca Pizarro Gomez Fiorentina Ah Adesso ho capito Queste Ah si 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 Queste in pratica Sono le squadre Primavera Perché da quest'anno Hanno messo anche Squadre Primavera Quindi quello che ho trovato Prima Livorno E non mi ricordo chi Erano le squadre Primavera Si si Squadre Primavera Non sono Quindi ci sarà Anche il Palermo Intanto c'è uno scudetto Del Cagliari Cagliari Calcio Livorno Empoli Rodriguez Questo qua Della Regina Sorrento E Biareggio Perfetto Quindi abbiamo finito Le nostre Anzi le mie Trenta bustine E direi che sono molto Ma molto soddisfatto Ottime carte trovate Ottima Soprattutto Collezione Io ragazzi Consiglio a tutte Di comprarle Perché sono veramente Molto belle Cioè Gli scudetti Sono stupendi Poi ci sono questi qua Le sultanze Che sono Bellissime Quindi veramente Un'ottima collezione Ci sono anche i trofei Da quest'anno Quindi Ottima collezione Direi io Cioè Vi consiglio vivamente Di acquistarla Ho trovato anche Un po' di giocatori Il Palermo Quindi bene Una cosa Io non ho ancora Comprato l'album Perché aspetto Verso il gennaio Che la Panini Mi manda Il buono sconto Che posso acquistare Sia il blister Sia l'album Io di solito Acquisto sempre Il blister Perché così Ci sono anche Le sei bustine Le cinque bustine Scusate Quindi preferisco Sempre Comprarli dopo Verso il gennaio L'album Così C'ho l'album E anche le cinque bustine Quindi Aspetterò Gennaio appunto Per comprare L'album Ma mi accontento Per ora Di queste figurine Che veramente Ragazzi Veramente Sono spettacolari Bellissime Quindi Vi consiglio a tutti Di comprarle Cominciare a fare La collezione E niente Direi che è tutto Ragazzi Mi raccomando Pollice in su Iscrivetevi Qua sopra Qua sotto Qua verso qua Vrebbe essere verso qua Non mi ricordo Mi raccomando Sì vabbè Di nuovo L'ho detto Mi raccomando Passate buone feste E comprate Le bustine Dei calciatori panini Alla prossima Ragazzi Grazie a tutti